la tavola 51 facciamo un ulteriore passo in avanti nella rappresentazione delle prospettive allora oggi rappresenteremo un cubo e partiremo per fare questa tavola dalla tavola mi sembra 48 che abbiamo già fatto che era la prospettiva di un quadrato perché ovviamente il cubo ha una base di un quadrato per cui tutta la prima parte della nostra tavola ce l'abbiamo di fatto già pronta nel senso che dobbiamo soltanto rifare uguale vi ricordo come abbiamo fatto la prospettiva di un quadrato abbiamo trovato le tracce e le fughe le tracce saranno 4 le fughe saranno 2 perché i lati paralleli hanno la stessa fuga quindi a 2 a 2 le fughe saranno solamente 2 abbiamo portato le tracce nella linea di terra le fughe nella linea dell'orizzonte abbiamo unito tracce e fuga quindi queste quattro rette hanno praticamente delimitato una figura che sarebbe il nostro quadrato di base abcd allora questa prima parte sarà identica perché la base del nostro cubo è appunto un quadrato allora però prima di procedere ulteriormente vorrei fare alcune considerazioni riprendere alcune considerazioni che avevamo già fatto ingrandisco l'immagine questa immagine non avevamo già vista in precedenza e rappresenta un po il nostro ambiente di lavoro il nostro quadro o piano della prospettiva sarebbe questo piano verticale qui dove c'è appunto la linea di terra e la linea dell'orizzonte come se fosse una grande lastra di vetro da cui vediamo l'oggetto che sta sotto il piano della pianta e il piano della terra questo sotto le considerazioni che abbiamo in realtà già fatto sono principalmente due la prima ovvia è che noi abbiamo detto che un oggetto rappresentato in prospettiva non viene rappresentato con la sua altezza reale con le sue misure reali e abbiamo detto orientativamente che più questo oggetto è lontano dal punto di vista e più sarà piccolo più è vicino al punto di vista e più sarà grande allora però ci interessa di capire quando è che sarà la misura reale riportata così come è anche in prospettiva se ci ragioniamo un attimo insieme questo avverrà quando mettiamo che questo è un cubo che è inclinato quindi una situazione analoga a quella nostra quando questo spigolo sta perfettamente attaccato a questa lastra di vetro perché in quel caso la proiezione di questo spigolo sulla lastra di vetro è lo spigolo stesso se questo spigolo l'allontano i raggi tenderanno a convergere verso il punto di vista e quindi questa altezza sarà più piccola quindi prima considerazione diciamo che le misure reali le avremo soltanto in un caso cioè quando l'oggetto sarà attaccato al nostro quadro quindi al piano della prospettiva altra considerazione importante che dobbiamo fare le altezze di questo oggetto in prospettiva quindi sul quadro saranno seguiteranno ad essere parallele tra di loro per quale motivo perché appunto il piano della prospettiva è perpendicolare al piano di terra quindi perfettamente verticale questo tipo di prospettiva le altezze rimangono parallele tra di loro se avessimo inclinato questo piano si chiamano prospettiva quadro inclinato avremmo visto convergere anche queste linee ma siccome nel nostro caso il piano prospettico è perfettamente verticale perpendicolare al piano della terra queste linee rimangono parallele tra di loro allora con queste due considerazioni vediamo come procedere allora io per come abbiamo fatto già altre volte anche per rendere più comprensibile il disegno le linee di costruzione che andiamo a fare adesso sono fatte con un altro colore in questo caso il magenta allora la prima cosa che facciamo è in base alla considerazione che abbiamo appena fatto siccome le nostre altezze rimarranno parallele tra di loro dai punti A, B, C e D possiamo tirare su delle verticali indefinite con una lunghezza diciamo così a piacere che poi dopo chiaramente individueremo meglio perché sicuramente queste saranno parallele tra di loro prima cosa seconda cosa eccola qua allora noi abbiamo detto che le linee mantengono la loro diciamo così dimensione reale quando sono attaccate al quadro quindi questo che significa che la misura reale la dobbiamo mettere sul quadro per cui come faremo a delimitare questa faccia dietro in questo caso dal punto della traccia che in terza è il quadro porteremo sull'altezza reale che sono 4 cm quindi un segmento alto 4 cm ricordo che era la base del nostro cubo va bene quindi da questo punto 4 cm a questo punto che faremo questo punto di 4 cm che è reale lo porteremo fino alla fuga per quale motivo perché chiaramente lo spigolo di base del nostro cubo sarà parallelo allo spigolo superiore del nostro cubo e quindi convergeranno tutti nella stessa fuga cioè noi prima avevamo due rette che convergevano in una fuga adesso saranno quattro ovviamente perché ci saranno pure delle facce superiori va bene quindi da questa altezza di 4 cm da questo punto che abbiamo trovato a 4 cm nella verticale portandolo alla linea di fuga lo spigolo A e lo spigolo D si intersegheranno in questi due punti che ho evidenziato questa dietro qui sarà di fatto la faccia dietro del nostro cubo la stessa cosa faremo avanti dal punto traccia di B porteremo sempre 4 cm e tireremo questa retta dal punto trovato fino alla fuga e avremo determinato questi altri 4 punti adesso praticamente la figura già sarebbe pronta perché ecco la base sarà questa la parte superiore sarà quest'altra dobbiamo esclusivamente unire i punti tra di due però facciamo anche altre considerazioni allora se noi adesso ho sostituito i punti con ingrandisco un pochino la figura ho sostituito i punti con le lettere quindi A, B, C e D alla base E, F, G e H sopra allora per completare la figura quindi il punto F e il punto E li devo unire tra di loro ok? ma unendoli tra di loro che succede? che se siamo stati precisi il punto F e il punto E uniti tra di loro lo devono convergere sul F A e F C cioè la fuga delle linee nell'altra parallela per quale motivo? perché chiaramente siccome questa retta che passa per E per F e per F è parallela alla retta che passa per A e per B avranno la stessa fuga quindi questo dovrà verificarsi facciamo la stessa cosa nell'altro lato quindi portiamo le altre rette all'altra fuga e quindi abbiamo completato la nostra figura eccola qua è rappresentata tutta quanta con le nostre linee magenta quindi praticamente i metodi di costruzione in realtà potrebbero anche essere differenti però fondamentalmente il metodo è lo stesso adesso arrivati a questo punto possiamo andare a diciamo così ripassare la parte sopra del nostro cubo eccolo qua quindi uniamo le rette E, F, G ed H tra di loro adesso nel completare il nostro cubo utilizzeremo lo stesso criterio utilizzato in assonometria quindi gli spicoli che sono visibili saranno continui sempre con la mina F gli spicoli nascosti saranno tratteggiati qui in realtà noi abbiamo due spicoli A, D e D, C che ho disegnato diciamo così con una linea continua perché era il quadrato che ci portiamo dietro dall'inizio che poi vedrete alla fine diventeranno degli spicoli nascosti infatti ecco qui possiamo già ripassare la prima faccia abbiamo ripassato la faccia sopra ripassiamo la faccia sinistra ripassiamo la faccia destra eccola qua e poi dopo ripassiamo anche la faccia dietro con le linee tratteggiate quindi il nostro cubo finale avrà questa diciamo così questa forma chiaramente come potete vedere anche qui sono altre considerazioni da fare noi lo stiamo vedendo di fatto dall'alto cioè l'osservatore più alto del cubo per cui troveremo che la base a B, C, D è molto più visibile della copertura E, F, G, H perché l'E, F, G, H sta più all'altezza della vista dell'osservatore chiaro che se per assurdo questo cubo fosse stato alto come l'osservatore quindi come tra L e T e L e O di fatto questa figura sopra sarebbe stata una linea se fosse stato più alto l'avremmo vista diciamo di fatto da sotto e queste sono considerazioni che poi lavorando vedremo quindi fatte queste considerazioni ripassiamo tutte quante le linee finali appunto con le mine 2H e con la mina F cioè 2H sono le costruzioni che già c'erano ripassiamo con la mina F la costruzione finale quindi togliamo i colori ecco la la prospettiva finale verrà in questo modo anzi se vogliamo veramente essere precisi lo dovete essere e qui ci sono delle piccole differenze che sono che per esempio è chiaro che questo quadrato che sarebbe un cubo visto dall'alto ci sono dei punti per esempio in questo caso E che nascondono dei punti A e quindi lo possiamo rappresentare diciamo così con la nomenclatura solida che abbiamo utilizzato per la rappresentazione in proiezione ortogonale e quindi Grazie.